terzo giorno di viaggio siamo arrivati in realtà già ieri sera a Biella ma da pochissimo siamo alla città dell'arte alla fondazione pistoletto quindi uno dei nostri partner strategici l'abbiamo già incontrato un altro incontreremo più tardi è bello in transizione è bello è sempre un'emozione essere qui l'ultima volta che sono stata qui era più di un anno fa per incontro dei pionieri del cambiamento e ancora non c'era la nostra campagna degli agenti ancora proprio non immaginavamo neanche di poter riuscire a lanciare Piemonte che cambia e invece il desiderio si è già realizzato e questo pomeriggio saremo con i ragazzi di idro per in realtà non un pomeriggio ma un pomeriggio sera lungo prima per incontrare le realtà che abbiamo già mappato e poi per conoscere altre persone nuovi progetti idee e stare tutti insieme e festeggiare questo lancio del Piemonte che cambia per gli amici di Biella ovviamente vi aspettiamo fra pochissimo